perfetto bella raga sono GDC oggi ragazzi siamo qui con un altro episodio di spacchettamento figure in calcetto di panini 2021 questo è l'episodio questo è il ventesimo episodio quindi apriamo solo due pacchetti perchè? perchè ne mancano 5 io me li voglio ne apriremo 3 ok ci ho fatto da prendere prendiamo questi due pacchetti poi questa la chiudiamo e ci vediamo domani si perchè domani faremo lo spacchettamento finale del 2020 quindi allora due pacchetti ma qua dentro questi pacchetti sta Ibra e Lukaku iniziamo subito ti prego Manfredini ah no aspetta facciamo ce li apriamo ce li facciamo così ah io non li vedo allora Benevento ma si vede? ok così si Crotone Deron chi è? ceppitelli scudetto delle empoli e beh qui basta andiamo con l'ultimo pacchetto ma comunque Deron è buono Deron è molto buono io c'ho l'alfanta a calcio bella Deron bella per Deron ma ragazzi andiamo con l'altro pacchetto apriamo ok cittadella questi me li vedo anch'io Filippo Inzaghi Barrica allora no Crotone no no brava apriamo un altro pacchetto no non è vero non è vero finiamo qua perfetto il migliore del giorno oggi è Deron Deron ma come sorride scusa perfetto due migliore del giorno abbiamo finito anche oggi con questo episodio noi ci vediamo noi ci vediamo in un prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto bella